Ho sempre fatto sport ma come lo sto facendo adesso non si sa Stavo pensando che forse mi accartoccio su me stesso prima o poi perché Sto davanti a sto passo Ma non hai capito una serie te? Non ho capito una serie di cose della mia vita ma in senso totale proprio Stasera le capirai? Stasera spero di avere le risposte stasera Un bel giorno La condizione mi pare quella ideale Peggio, peggio No, vorrò ancora ma non come prima perché Tutto un po' mi sono iniziato a piegare una serie di contratture improvvise Ma i gnocchi quando ci porti? No, no, che i gnocchi poi non mi rimane No, no, che poi non basta per me No, no, che poi non basta per me No, no, che poi non basta per me Ma sia così, ma sia Ma io ti portai con il maestro Adesso l'ho già proprio Mi sono rivrittato E poi si sono rimesso a farci dei toglioni Ti prendi 10 giorni? No, sì, vabbè A prescindere da quello che prende la mia attività Però dopo, potuto Tutte le serie Io entravo in palestra Uscivo dalla palestra E era un leone Il giorno appresso Voglio ascoltare il oggetto Scusiamo che vorrebbe la nuova, è uscito da lì, è uscito da lì. Guarda come è stato ritorno, mi devo mangiare un po' di... Posta, posta, a lavorare, posta.